Ciao amici, benvenuti su un altro video di Vale Sceffa. Oggi mi trovo da una mia grande amica, una mia cara amica che la conosco dal 2009, tempi del liceo, proprio amica storica. Abbiamo fatto un patto, io l'ho convinta a fare sta torta e lei fa, però Vale decido io quale torta fare. E che torta andiamo a fare? Andiamo a fare la torta Sacker. Comunque lei, Francesca, non l'ho ancora presentata, l'avevamo già vista, non so se vi ricordate, abbiamo fatto la torta e i tre cioccolati, prima di Natale, quella molto buona. Quindi lei è una pasticcera, diciamo, non di professione, ma è molto brava, davvero brava, brava. E niente, quindi andiamo a fare la torta Sacker. Ma prima, sigla! La torta Sacker. Adesso andiamo a montare gli albumi con lo zucchero e un pizzico di sale. Il becco, il famoso becco. Ciao! 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 Ed eccoci qua amici, una volta che il cioccolato fondente è completamente sciolto, lo andiamo a versare nella massa con tuorli, zucchero e burlo. Ciao! 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 Ciao!